Manca solo da stabilire la data, ma ormai lo sciopero dei lavoratori part-time del Comune di Ribera è deciso. Mercoledì 13 marzo, dalle 11 alle 13, in programma l'Assemblea indetta dalla CGL Funzione Pubblica per programmare la giornata di protesta. Una decisione nell'area già da settimane, dopo che non hanno sortito l'effetto sperato e diversi confronti tra lavoratori, sindacato e amministrazione comunale. Sono 87 dipendenti comunali part-time che da tempo chiedono l'incremento delle ore lavorative da 24 a 34. La CGL nelle scorse settimane aveva proclamato lo stato di agitazione, non ritenendo sufficienti gli impegni assunti dal sindaco Matteo Ruvolo. Le parti rimangono distanti con i lavoratori che chiedono l'adeguamento orario a 34 ore subito e l'amministrazione che si dice disponibile e pronta a soddisfare la richiesta, ma dopo l'approvazione del bilancio di previsione per salvaguardare gli equilibri finanziari e non arrecare problemi all'ente. Sindacato e lavoratori ritengono invece che il Comune di Ribera è nelle condizioni economiche di poter garantire l'incremento delle ore lavorative. Si tratta di personale che ormai da decenni contribuisce a garantire il funzionamento della macchina comunale. Sono stati nel tempo stabilizzati ma con un monte ore che non ritengono più accettabile. Un'avvertenza che si trascina da diversi mesi e che ora sembra destinata a sfociare nello sciopero.